Si preannuncia davvero ricca la quinta edizione della stagione estiva a Don Bosco in programma al Parco delle Semi Rurali di Bolzano. Un appuntamento atteso ed apprezzato non solo dai residenti del quartiere, in grado di animare per quasi due mesi le serate estive del parco. L'ingresso agli spettacoli, come negli anni passati, è gratuito. In tutto otto gli eventi in programma, che spazieranno dal teatro alla danza, dal canto ai concerti. Ad aprire il cartellone, il concerto jazz in programma il 29 giugno alle 21 nell'ambito del Jazz Festival d'Alto Adige, per poi proseguire con il teatro domenica 5 luglio, sempre con inizio alle 21 con lo spettacolo Bocca Baciata non perde ventura. Si prosegue con due settimane di Bolzano Danza e quindi tutta la città deve ballare e anche il quartiere di Don Bosco vuole ballare. Quindi abbiamo proposto un matiné, l'unico matiné della stagione, che sarà al Parco Mignone il 12 luglio alle ore 11, uno spettacolo francese di interazione con il pubblico, per poi proseguire il 15 luglio qui al Parco con uno spettacolo sempre di danza contemporanea e sempre in collaborazione con il Bolzano Danza. Poi abbiamo il 22 luglio una milonga di tango e questo penso che sia la chicchetta del nostro festival perché sono un'orchestra russa, solo tango orchestra, che sono i più ricercati per tutti i festival internazionali di tango e noi ce l'abbiamo qui a Bolzano, quindi vi aspettiamo numerosi per il tango. Il ricco programma si chiuderà il 6 agosto alle 20 e 30 con il concerto di musica spagnola in collaborazione con Antiqua. La sosteniamo perché è un luogo di incontro fra i cittadini, non solo di questo quartiere ma di tutta la città. Ritrovarsi, stare insieme attraverso la cultura crea assolutamente benessere. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo è consultabile anche la pagina all'indirizzo internet www.stagionedonbosco.it